Siracusa, mafia confiscati a Catanese beni per 800.000 euro, forniva droga a Gruppo Borgata. All'esponente della criminalità organizzata catanese, Carmelo Di Domenico, nell'ambito di un procedimento di prevenzione coordinato dall'ufficio inquirente, è già stato qualificato soggetto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente alla commissione dei delitti determinati da finalità di lucro, su richiesta della procura estetuale, il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, ha disposto e la Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito la confisca di un patrimonio stimabile nel valore di circa 800.000 euro, illecitamente accumulato da Carmelo Di Domenico, esponente della criminalità catanese. L'uomo ha ricevuto in passato più condanne definitive per reati di diversa natura, tra cui si rilevano in particolare quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, proprio puntando l'attenzione alla condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Catania in data 23 gennaio 2019, per spaccio di stupefacenti, nell'ambito del relativo procedimento penale, venivano raccolti elementi di indagine che acclaravano come il condannato forniva in via continuativa cocaina a esponente di primo piano del gruppo della Borgata, noto sodalizio criminale operante nella città di Siracusa. Sulla base delle plurime evidenze giudiziarie acquisite, risultate idonee a definire il profilo di pericolosità sociale del soggetto, i militari del nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Siracusa, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Catania, hanno eseguito una mirata indagine patrimoniale nei confronti del soggetto socialmente pericoloso, il cosiddetto proposto del suo nucleo familiare, onde verificare la coerenza del loro tenore di vita e del patrimonio posseduto con i redditi degli stessi dichiarati. In particolare, le indagini hanno permesso di riscontrare l'incapacità del nucleo familiare del proposto a far fronte agli impegni economici assunti, insieme a dei redditi dichiarati e o percepiti, confrontati con il valore dei beni acquistati e con le ulteriori uscite rilevate nel periodo temporale di riferimento dal 2000 in poi, sono quindi risultati sproporzionati rispetto alle acquisizioni patrimoniali operate, dimostrando un tenore di vita decisamente elevato e incongruo rispetto alle possibilità reddituali e o derivanti da fonti di lecita provenienza. All'esito dei richiamati approfondimenti patrimoniali, già nel dicembre 2018 erano stati acquisiti elementi idonei per consentire alla Procura della Repubblica Tenea di chiedere e ottenere alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania il sequestro del bene oggetto dell'odiena confisca, a seguito del quale vengono ora acquisite al patrimonio dello Stato cinque immobili correnti nella città di Catania, di cui due unità abitative e due fabbricati di risalente costruzione e quote di un quinto immobile. Una nota attività di ristorazione già operante nel centro storico di Catania rapporti finanziari e beni mobili. L'attività investigativa che rientra nelle specifiche competenze della Guardia di Finanza in ordine al contrasto alla criminalità economica e finanziaria con l'individuazione e la creazione di capitali di origine illecita si avvalsa dei più moderni sistemi informatici di ausilio alle investigazioni patrimoniali quali il software Molecola creato dal Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata nonché delle diverse banche dati in uso ai militari della Guardia di Finanza.